L'intervento dei Vigili del Fuoco di Castellamonte, domenica 21 giugno, poco prima delle 13, a Vissignè. I volontari sono stati chiamati per su un'abitazione per liberare una civetta rimasta incastrata in una canna fumaria. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarla e a riportarla a terra senza fargli male. Siccome era illesa, la civetta è stata lasciata immediatamente libera. I Vigili del Fuoco di Castellamonte, domenica 21 giugno,